Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Portotolle, la frazione di Pila, siamo nella frazione dei pescatori proprio per Antonomasia e naturalmente vogliamo conoscere una delle realtà più importanti della struttura economica di tutta la zona del delta che è la cooperativa pescatori di Pila. Andiamo! Questa cooperativa è nata nel 1947 da otto pescatori. Nei primi anni la pesca si svolgeva essenzialmente con barche di piccole dimensioni e quindi il prodotto itico era in prevalenza di acqua dolce proveniente dal Po e dalle lagune limitrofe storioni, anguille, sogiole, passere, cefali e la vendita era effettuata in un cassonetto di canna in questa piccola frazione del comune di Portotolle. La cooperativa ha rappresentato e rappresenta la guida economica avendo tra i soci la maggior parte degli abitanti. È stata regolarmente riconosciuta OP, cioè Organizzazione di Produttori, tramite decreto ministeriale del 10 marzo 2005 per le specie ittiche, alici e cannocchie ed è stata una delle prime cooperative del settore pesca ad ottenere dal 25 settembre 2002 la certificazione ISO 9001 per la commercializzazione e l'ingrosso di prodotto ittico fresco. Attualmente i soci esercitano tutti i tipi di pesca, dalla raccolta delle vongole, alla pesca in laguna di fiume, alla pesca in mare, a strascico e con rette volanti. Importante tra le attività di questa cooperativa il mercato ittico, che è appunto costruito nell'immediata invicinanza del porto, inaugurato nel 1995, vicino al porto peschereccio da laguna del Barbamarco. Nel 2001 conditiene la concessione della provincia di Rovigo per l'autorizzazione dell'attività di cultura e grazie a questo sono stati realizzati in mare aperto dei vivai per l'allevamento di cozze. I numeri economici sono decisamente importanti. Purtroppo nel 2020 il fatturato è diminuito del 18,54% rispetto al 2018 per gli ovvi motivi della pandemia. Ma in ogni caso il recupero è stato immediato in questo 2021. Quindi complimenti a questa eccellenza del panorama economico del Polesine e naturalmente saremo a disposizione per seguire altre attività produttive importanti del nostro Delta.